Questo? Sì. È crescente fritta, gnocco. Gnocco fritto? Sì. Quanto tempo deve diventare? Che cosa? La pasta. Una notte. Facciamo la sera, lo operiamo il giorno dopo. Firmatura. Firmati i dolci? Firmati i dolci? Tutti sono pigelle. Adesso appena viene da friggere, ne fricò un po'. Adesso gliela fritto. Via. E cosa si mette dentro? Ci va il latte, ci va tanta roba. Adesso non glielo so dire. Ci va il latte, il lievito di birra, il sale. Ecco, guardi. Questa gliela offro. Via. Oh. Pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.